ok perfetto dovrebbe essere perfetto perfetto è partita la diretta perfetto allora buonasera a tutte benvenuti all'interno di questa diretta all'interno della quale parleremo del perché non dimagrisci andando ad analizzare anche alcune cose che non sono strettamente collegate alla classica dieta e quindi se vuoi scoprire perché non dimagrisci nonostante i sacrifici nonostante l'allenamento costante le ore infinite di cardio insomma nonostante tutto resta attaccata a questa diretta fino alla fine perché troverai una risposta a questa domanda allora è la prima diretta al di fuori di guerriere in forma il mio gruppo facebook privato quindi per tutte quelle persone che non mi conoscono che mi stanno ascoltando per la prima volta io sono federica educatrice alimentare personal trainer autrice delle diete sono inutili e stop fame nervosa e oltre ad essere l'autrice di questi due meravigliosi libri sono anche la creatrice di protocollo guerriera vincente nonché il primo percorso di rieducazione alimentare online coaching in italia di fatti insieme al mio team di guerriere in forma ci rivolgiamo principalmente a tutte quelle donne che nonostante il poco tempo a disposizione vogliono raggiungere un fisico magro tonico ed armonico senza seguire una dieta senza ore infinite di allenamento ma soprattutto senza mai più riprendere i chili persi perché quando hai un'educazione alimentare ecco che i chili persi non ritornano più perché perché non c'è l'effetto io io non c'è non ci sono episodi di fame nervosa e soprattutto si impara a nutrirsi nel modo corretto quindi senza poi dover seguire necessariamente le classiche diete da fame e quant'altro allora bene bene io vedo che state entrando in questa diretta ciao maria teresa ciao tinuccia ciao laura ciao debora ciao sandra ciao a tutte ciao a tutte guerriere e non guerriere perché ci sono anche donne che mi stanno guardando dalla pagina quindi non dal gruppo facebook guerriere in forma allora iniziamo subito questa questa diretta prima di iniziare sì lo so che avete notato il cerotto lo so che quelle più attente hanno visto il cerotto purtroppo mi sono tagliata con un coltello ma sto bene niente di niente di che sto benissimo però non fate caso a questo cerotto tra l'altro si abbina anche con la giacca vabbè tralasciamo allora iniziamo questa diretta quindi abbiamo detto che l'argomento principale sarà rispondere alla domanda perché non dimagrisco allora mettiamo un attimo da parte il discorso dieta sbagliata perché dopo parleremo anche di dieta principalmente quello che devi sapere è che parliamo anche di approccio mentale che è uno dei tasselli fondamentali del metodo fespa metodo fespa che è quello che permette a centinaia di donne di essere in forma senza dieta e l'ultimo tassello di questo acronimo fespa quindi fspa la asta per approccio mentale che è di fondamentale importanza quando si vuole trasformare il proprio la la propria forma fisica no quindi diciamo che questa sera parliamo anche di approccio mentale di fatti quello che devi sapere è che la tua mente non conosce la negazione che significa che nel momento in cui ti domandi perché non dimagrisco perché non sono in forma perché non sono magra perché non riesco a dimagrire per la tua mente non significa nulla ok non significa assolutamente nulla ti faccio un esempio quando andavo alle superiori ma anche alle medie in realtà io non andavo bene in matematica era una frana ok io la matematica non andavamo d'accordo ma questo rapporto di odio con la matematica è nato già alle elementari quando andavo alle elementari questa maestra delle elementari un po' diciamo cattiva non trasmetteva bene la sua materia diciamo che dalle elementari per colpa di un insegnamento sbagliato poi la matematica lo detestata dalle elementari fino poi a salire diciamo fatto sta che comunque nel momento in cui io andavo alle medie alle superiori e mi chiedevo ma perché non vado bene in matematica perché la matematica non mi piace perché non riesco a prendere dieci al compito di matematica perché non vado bene quando mi facevo queste domande la mia mente o meglio la vocina che sentiamo dentro di noi che è una vocina che ci parla costantemente mi diceva perché sei una frana perché non sei intelligente perché non sei adatta alla matematica perché non vai bene non sei intelligente e tanto altro ecco questa cosa succede anche quando ti poni la domanda perché non dimagrisco cioè la tua mente la vocina che senti all'interno della tua testa ti spinge a darti delle risposte che non fanno nient'altro che buttarti giù quindi ti chiedi perché non dimagrisco e la vocina che senti dentro di te ti dice non dimagrisci perché sei una fallita perché ti piace mangiare perché non ci riuscirai mai tutte queste cose qua che non fanno nient'altro che buttarti giù quindi farti stare triste essere infelice non avere autostima e questa cosa si collega al secondo punto quando c'è un perché più la negazione è come se ti focalizzassi anzi ti focalizzi solo sul problema quindi ti focalizzi sul fatto che non dimagrisci ma non riesci a vedere un'alternativa quindi perché non dimagrisco perché faccio schifo perché il mio corpo non funziona perché sono una fallita perché sono una mangiona e tutte quelle tutte queste cose ti portano poi a perdere fiducia in te stessa e a non vedere una via d'uscita quindi ti ritrovi totalmente chiusa senza sapere come uscire da questa situazione e non ti focalizzi neanche sulla soluzione a questo problema proprio perché ti focalizzi solo sul fatto di non essere abbastanza quando in realtà ovviamente non è così io qui ho preso degli appunti mi sono scritta un po' di punti per non perdere il filo del discorso perché lo dico per tutte le persone che mi stanno ascoltando per la prima volta io non sono in Italia da voi sono le 8 di sera da me sono le 11 quindi la stanchezza comunque un po' si fa sentire quindi per non perdere il filo del discorso tendo a scrivermi degli appunti che ogni tanto do un'occhiata proprio per avere un discorso molto più lineare non dispersivo come solitamente faccio le mie guerriere lo sanno benissimo quindi piuttosto di ripeterti perché non perché non riesco perché non dimagrisco e tutte queste cose qui quello che devi fare è chiederti come posso dimagrire cosa posso fare per dimagrire cosa mi serve per dimagrire perché nel momento in cui sostituiamo il perché più la negazione quindi perché non con come posso cosa posso come fare come devo continuare insomma nel momento in cui sostituisci il perché più la negazione con un cosa o un come ecco che ti si pongono davanti diverse alternative diverse soluzioni che puoi mettere in atto per superare quella problema che all'apparenza ti sembra insuperabile ora nel momento in cui una persona si chiede come faccio a dimagrire purtroppo purtroppo la prima cosa che viene in mente è una perdita di peso veloce quindi cos'è una perdita di peso veloce cosa ci dà questo dimagrimento veloce pillole bibitoni vengono in mente tutte queste soluzioni rapide dieta chetogenica la dieta low carb che alla fine è la stessa della dieta chetogenica vengono in mente tutte queste soluzioni che portano ad un risultato veloce perché la pillola il sostitutivo nauseante il bibitone sarebbe no per chi mi segue per la prima volta oppure la dieta chetogenica sono tutti tutti i regimi estremi che portano ad un dimagrimento veloce portano più che ad un dimagrimento ad una perdita di peso veloce quindi nel giro di un mese la persona che si sottopone a questi tipi di dieta perde anche 5 chili il problema è che uno sono chili di liquidi non è grasso quello che viene perso sono liquidi perché si fa la fame perché si vanno ad eliminare i carboidrati e quindi si perdono liquidi due sono chili che vengono ripresi nel momento in cui si torna a mangiare come prima di fatti quando ci si sottopone a queste diete nauseanti con le pillole con i bibitoni io sono molto contro queste soluzioni perché non funzionano e anche perché alla lunga poi non sono neanche sostenibili cosa succede? verso il filo del discorso che mi sono distratta cosa succede? che innanzitutto voi immaginate a me viene sempre da ridere quando faccio questo esempio ma se attualmente stai prendendo i bibitoni non prenderla sul personale anzi però ragionano su questo a me viene sempre da ridere quando penso a queste donne che arrivano a casa dopo una giornata di lavoro si fanno il bibitone che impiegano tre minuti a fare il bibitone quindi prendono la polverina la mettono nel mixer oppure la mettono nello shaker prendono il latte prendono l'acqua shakerano oppure col mixer fanno questa pappetta che poi devono teoricamente bere o mangiare al cucchiaio e accanto magari alla propria sinistra o alla propria destra hanno il figlio il marito il compagno la nipote tutto insomma tutto quello che volete che mangia un bel piatto di pasta asciutta un bel piatto di carbonara un bel piatto di qualcosa e questa poverina che si ha preparato il pasto in cinque minuti in tre minuti ha preparato il pasto ma è costretta a mangiare col cucchiaino oppure a bere come se fosse una vecchietta di novant'anni senza denti con tutto il rispetto per le vecchiette di novant'anni ovviamente per dare un'immagine ok? ci sono anche vecchiette signore di novant'anni che i denti li hanno ancora tutti però immaginate questa donna che torna da lavoro e che in cinque minuti si prepara il pasto ma è costretta a bere piuttosto che masticare piuttosto che mangiare un piatto di pasta perché? perché segue questa dieta estrema che è destinata a fallire inoltre il fatto di sottoporsi a questi regimi estremi poi porta anche ad un blocco del dimagrimento di fatti oltre ovviamente al non chiedersi evitare di chiedersi perché non dimagrisco perché come ho detto all'inizio di questa diretta perché non dimagrisco non significa nulla per la tua testa e soprattutto ti porta a parlarti in un certo modo a parlarti in modo dispregiativo e non è quello che ti serve per raggiungere quello che è il tuo obiettivo ma seguire queste diete estreme come appunto la chetogenica la dieta con i bibitoni con le pilole e quant'altro anche questo ti porta poi a non dimagrire più perché? perché quando si seguono questi regimi estremi si entra in quello che è un brutto circolo vizioso cioè che significa? che si inizia la dieta innanzitutto si ha una brutta visione di dieta quindi si pensa alla dieta come un modo per perdere peso velocemente si pensa alla dieta come una cosa da fare da x giorno a x a y giorno quindi da giorno x a giorno y e si entra anche nella visione di questo posso questo non posso mangiarlo quindi l'entrare nella visione di dieta porta con sé tutta una serie di aspetti negativi che poi portano la persona a sfogare tutte le privazioni tutte le restrizioni alla prima occasione disponibile che può essere il sabato quando magari si può mangiare la pizza seguendo sempre l'alimentazione rigida perché in un'alimentazione normale in un'alimentazione dove si mangia tutto quindi dove non ci sono pillole e bibitoni non ci sono sostanze strane da prendere ma semplicemente si mangia tutto come una persona normale non si aspetta il sabato per mangiare la pizza o mangiare quello che insomma più ci piace però quando si seguono queste diete rigide quello che succede è che appunto si entra in questa visione di quindi questo posso questo non posso mangiarlo e si finisce poi ad un punto in cui si perde il controllo e si mangia la qualunque quindi si inizia con un biscottino poi si torna dopo cinque minuti nello scaffale nella dispensa si vanno a prendere altri biscotti e ci si ritrova che si è iniziato con un biscotto e il pacco di biscotti poi è finito completamente perché? perché si viene prese dal fatto che ormai si è sgarrato ormai abbiamo diciamo mandato all'aria quella che è la dieta e quindi si perde il controllo se ne approfitta e si mangia qualsiasi cosa questi episodi continui perché sono degli episodi che vanno solo a crescere nel tempo quindi non sono degli episodi che scompaiono questi episodi di perdita di controllo continuano e con il passare del tempo con il passare delle settimane, dei mesi se non si va ad agire su questo comportamento andandolo a modificare ovviamente questo comportamento tende a amplificarsi passa magari da una volta a settimana due volte a settimana tre volte a settimana quattro volte a settimana quindi cresce man mano che passa il tempo e questo continuo dieta privazioni rinunce sgarri io li chiamo così ma in realtà noi di guerriere in forma siamo contro gli sgarri perché non esistono gli sgarri ok non esiste il giorno libero non esiste il giorno in cui mangiare questo il giorno in cui mangiare quello si può mangiare tutto assolutamente ma torniamo a noi altrimenti perdo il filo del discorso e divento non riuscite a seguirmi quindi stavo dicendo questi continui episodi di privazioni rinunce abbuffate chiamiamole così non fanno altro che farti fare piccoli passi avanti perché con la dieta rigida come ho detto all'inizio a dimagrire si dimagrisce perché si fa la fame e quindi indubbiamente si dimagrisce piccoli passi avanti in cui perdi peso in cui ti sgonfi perché perdi liquidi e perdi anche massa massa magra e e poi torni indietro perché perché ci sono continui episodi di perdita di controllo che non fanno altro che riportarti indietro e farti vivere costantemente con la paura del cibo con la paura di sederti a tavola e mangiare con la paura di uscire con un'amica a mangiare una pizza che sono tutte cose normali sono tutte cose assolutamente normali mentre io continuo perché voglio raccontarvi anche una cosa che mi è stata riferita oggi da una nostra consulente faccio un sorso d'acqua e dato che vedo dei cuoricini ho visto dei cuoricini io vi chiedo anzi mentre io bevo condividete questa diretta condividete questa diretta perché potete farlo dato che siamo sulla pagina quindi condividete questa condividete questa diretta condividetela con le vostre amiche che si trovano in questa situazione che si trovano a vivere con questo continuo senso di colpa che continuano a vivere con la paura del cibo quindi condividete condividete perché può assolutamente aiutare io faccio il mio sorsettino d'acqua ok perfetto allora ora vi racconto questa cosa che è successa oggi che mi ha riferito una nostra consulente c'è questa nostra guerriera vincente nonché questa nostra cliente che ha iniziato il suo percorso insieme a noi da una settimana su per giù e questa donna quando ha ricevuto il percorso alimentare è rimasta un po' sconvolta perché rispetto alle classiche dietine che vi danno che vi dicono lunedì mangia questo martedì mangia questo mercoledì mangia questo niente pasta niente dolci niente zuccheri tutta questa roba qui questa cliente non la nomino per questioni di privacy poi magari se lei è in diretta non lo so ma se lei è in diretta può scrivere ma non lo so se è in diretta onestamente diceva a questa consulente diceva ma io ho paura di mangiare ma sei sicura che io posso mangiare i carboidrati? sei sicura che posso mangiare la pasta ogni giorno? quando mi ha riferito questa cosa questa nostra consulente non sono rimasta sconvolta ok? perché? perché purtroppo di queste storie le sento tutti i giorni cioè di queste donne che per anni si sottopongono a regimi da fame si sottopongono alle pillole ai sostitutivi del pasto alle barrette sostitutive del pasto quindi a tutti tutti quegli integratori che vengono venduti per miracolosi ma che in realtà chi mi segue da un po' già lo sa chi non mi segue lo scopre adesso sono assolutamente inutili e sono solo soldi buttati quelli negli integratori come sostitutivi del pasto e quant'altro proprio perché c'è un continuo togli e prendi togli e prendi togli e prendi dato dal fatto che una dieta a base di bibitoni non è sostenibile la puoi fare la puoi sostenere per due settimane tre settimane un mese ma dopo un po' indubbiamente non riesci più a seguirla perché è normale come dicevo prima immaginate di sedervi a tavola e dover mangiare questa barretta sostitutiva del pasto che due morsi l'avete già finita e poi c'è vostra figlia di fianco che vi mangia la carbonara cioè ci stona un po' anche poi per l'esempio che viene dato ai propri figli cioè una madre che mangia la barretta sostitutiva del pasto senza voler giudicare ovviamente nessuna madre però capite il ragionamento ma una donna che si siede a tavola e accanto alla bambina di cinque anni sei anni tre anni e capisce la bambina cioè un bambino a tre anni capisce magari non ve lo sa dire non lo sa comunicare ma capisce ok? la sua mente funziona ok? capite che si dà anche un cattivo esempio perché? perché si fa credere al bambino alla bambina che quando si diventa adulti per essere in forma non si può mangiare la pasta ma si deve mangiare la barretta o si deve bere quel coso puzzolente che perdonatemi ma fa proprio senso bere quel frullato che si ok ci sono anche alcuni tipi che hanno le gocce di cioccolato all'interno si ma sempre schifezza eh ok? cioè so che del cibo non si parla male ma quello non è cibo quello non è cibo quelle quelle proprio mmm schifezza quella roba lì ok? quindi per tornare a noi per tornare a questa cliente che diceva eh questa diceva esponeva questa sua paura del dover mangiare carboidrati e chiedeva ma siete sicure? siete sicure? mica avete sbagliato? tutte queste cose qua eh perché giustamente lei ne viene da anni e anni di privazioni anni di dieta anni in cui ha fatto la fame perché le hanno detto non mangiare questo perché ti fa ingrassare non mangiare quello perché ti fa ingrassare giustamente quando si è trovata all'interno di protocollo guerriera vincente e quindi ha iniziato a seguire il metodo FESPA si è trovata un attimo così posso mangiare i carboidrati come è possibile? no? e dicevo io non resto sconvolta proprio perché di queste storie di queste donne che si privano che fanno una dieta a base di di pillole ma non solo pillole bruciagrassi anche proprio delle pillole che servono per sostituire un pasto tutte queste cose assurde è normale che nel momento in cui sentono me parlare oppure sentono vedono i commenti dei nostri clienti oppure vedono le testimonianze le foto i prima e dopo tutti questi tutti i risultati o anche quando sono all'interno del percorso restano un po' così sconvolte perché dicono com'è possibile? io dimagrisco mangiando la pasta sì che dimagrisci mangiando la pasta ma certo è normale che si dimagrisce mangiando la pasta è anormale il contrario quindi se attualmente non stai dimagrendo innanzitutto come abbiamo detto all'inizio di questa diretta vada come parli quindi non domandarti più perché non dimagrisco domandati cosa posso fare per dimagrire cosa posso fare per essere in forma e se la risposta è devo seguire le pillole devo bere il bibitone devo seguire la chetogenica no non è la risposta esatta non è questo il punto cioè non devi seguire queste diete estreme per dimagrire per dimagrire devi mangiare tutto devi mangiare la pasta il pane la pizza i dolci il gelato tutto perché non è il gelato il problema non è il cioccolatino il problema non è la nutella il problema non è qualsiasi altro alimento che ti hanno detto che fa ingrassare il problema il problema è che nel momento in cui non ragioni come una persona magra non vai a lavorare sul tuo approccio mentale anche il modo in cui ti parli e non vai a capire che non esiste un cibo buono e un cibo cattivo ecco che poi diventa difficile entrare nell'ottica di mangiare tutto e dimagrire che assolutamente è normale è anormale non mangiare farla fame questo è anormale anche perché il discorso della sostenibilità si applica anche a questo nel momento in cui fai la fame puoi farlo per un periodo limitato ma se vuoi realmente dimagrire puoi mantenere i risultati nel tempo l'alimentazione bilanciata equilibrata l'alimentazione chiamiamola dieta ok? per capirci deve diventare quello che è il tuo stile di vita quindi deve diventare un tuo modo di vivere e soprattutto deve diventare una cosa che fai quotidianamente senza pensarci di fatti molto spesso io parlo di dimagrimento automatico perché? perché nel momento in cui fai tu fai tue delle abitudini alimentari fai tue delle piccole conoscenze e fai tue delle piccole regole quotidiane ecco che il dimagrimento diventa una cosa automatica una cosa alla quale non ci pensi non pensi non arrivi a casa con il terrore di aprire il frigorifero e cucinare una carbonara non arrivi a casa con l'ansia e lo stress di dover cucinare tre pasti diversi per tre componenti della famiglia perché tu sei a dieta tuo marito è a dieta tuo figlio non è a dieta perché è troppo piccolo e quindi arrivi a casa dici aspetta mio marito è a dieta io sono a dieta mio figlio non può essere a dieta quindi deve mangiare quante cucine devo fare mamma mia il lavoro la palestra e questo e quella cioè è normale che diventa stressante una vita così ma non puoi vivere cucinando quattro cucine diverse è insostenibile ok quindi capisci questo che è fondamentale ok e soprattutto esci dalla visione cibo buono cibo cattivo questo posso questo non posso e soprattutto smettila di credere che con l'ennesimo bibitone non è riuscire ad essere in forma perché se hai provato una dieta a base di sostitutivi del pasto e non ha funzionato spiegami come potrebbe funzionare una seconda dieta a base di sostitutivi del pasto di un'altra azienda tanto sempre quello è cioè sempre quello il bibitone è sempre quello non cambia magari cambia un po' il sapore ma sempre quella è la logica e non funziona nel lungo periodo ok allora allora buonasera ciao Fede e Renata buonasera buonasera vedo un po' di saluti nel frattempo io lascio spazio a delle domande qualora ci fossero delle domande quindi condiviso condiviso grande Manuela grande Maria Teresa io stasera ho mangiato la parmigiana di melanzane che soddisfazione grazie al metodo FESPA brava Maria Teresa bravo mamma mia da quanto tempo non mangio una parmigiana di melanzane da tanto tempo che non la mangio ma non perché sono a dieta io non sono a dieta da anni io sono anni che mantengo la mia forma fisica e ogni giorno migliora sempre di più la mia composizione corporea e il mio corpo però non la mangio perché essendo a Dubai mancano le materie prime cioè la mozzarella serve quella fresca non serve quella congelata surgelata perché giustamente dall'Italia per arrivare qui è un viaggio enorme quello che deve fare una mozzarella per arrivare dall'Italia qui a Dubai e quindi non mangio una parmigiana di melanzane fatta bene come la fa mia nonna da da mesi ormai da mesi anche se quello che tu hai scritto per alcune soprattutto per quelle che prendono i bibitoni quello che tu hai scritto Maria Teresa è una cosa impossibile no? cioè mangiare la parmigiana di melanzane e dimagrire io sono a dieta ho perso 15 kg ho da perdere altri 20 mangio sano ma la pasta ce l'ho solo due volte alla settimana però sabato e domenica ho sgarrato allora ciao Lisa innanzitutto che significa per te mangiare sano? perché mangiare sano non significa mangio la pasta due volte a settimana ok? soprattutto la pasta va mangiata ogni giorno cioè tu puoi perdere 15 kg ma così come anche gli altri 20 mangiando la pasta ogni giorno perché? perché non è la pasta che fa ingrassare ti faccio ragionare ti faccio ragionare quando ho fatto questo esempio alle mie clienti alcune mi hanno detto ma hai ragione allora mi hanno sempre presa in giro sì allora le basi le basi della biochimica proprio ok? allora un grammo di carboidrati un grammo di carboidrato ti apporta 4 calorie un grammo di proteine ti apporta 4 calorie un grammo di grassi ti apporta 9 calorie quasi il doppio rispetto ai carboidrati e rispetto alle proteine carboidrati e proteine apportano le stesse calorie 4 ok? per quale logica? io devo eliminare la pasta ogni giorno? devo mangiare devo mangiare grassi e proteine perché sicuramente mangerai la fettina di carne oppure il pesce con le verdure durante la settimana e non mangiare la pasta se mi apporta le stesse calorie delle proteine cioè per quale motivo io devo eliminare la pasta mangiarla solo due volte alla settimana quando non mi fa alcun danno cioè non è la pasta il problema si tende a dare la colpa ai carboidrati semplicemente perché i carboidrati ti fanno trattenere più liquidi e quindi nel momento in cui tu assumi i carboidrati potresti notare ad esempio un aumento di peso sulla bilancia ma quell'aumento di peso che tu vedi sulla bilancia non è dato dal grasso ok? anche perché non si ingrassa in 24 ore ma neanche in due giorni quindi mangiare sano e questa non è una critica nei tuoi confronti eh ma se mi hai scritto questo messaggio è perché ti hanno insegnato che questo significa mangiare sano ok? quindi io non ce l'ho con te però ragiona con me mangiare sano non significa mangiare la pasta due volte a settimana e durante la settimana a far la fame perché chi non mangia carboidrati durante la settimana fa la fame è una sorta di dieta chetogenica questa qui con magari eh una ricarica due ricariche settimanali di carboidrati ma stiamo parlando di una chetogenica soprattutto se appunto mangi solo eh proteine e grassi quindi mangiare sano non significa questo mangiare sano significa mangiare tutto tutto ovviamente ovviamente facendo attenzione a quelle che sono le quantità le porzioni che devi mangiare tu ma soprattutto puoi mangiare tutto cioè questo significa mangiare sano mangiare tutto ok? ehm facendo ovviamente poi attenzione appunto alle porzioni ovviamente devi avere una tua strategia alimentare da seguire ok? per quanto riguarda invece il discorso sabato e domenica ho sgarrato allora io sono contro questo termine ehm sono contro perché perché quando si utilizza il termine sgarro si utilizza cioè vale a dire che stai facendo uno strappo alla regola hm? che stai uscendo fuori dal binario come se fosse e stai andando quindi verso una direzione sbagliata ma in realtà quando tu segui un'alimentazione completa di tutto quindi mangi la pasta mangi il pane la pizza i dolci la carne il pesce mangi tutto ok? non hai bisogno né tantomeno di aspettare il sabato e la domenica per mangiare quello che più ti va né tantomeno vivi questi giorni come dei giorni in cui ti dai la pazza gioia con il cibo perché? perché durante la settimana già mangi quello che vuoi cioè non ha senso non ha senso arrivare il sabato e la domenica e mangiare di tutto non ha senso è un continuo tira e molle è un continuo faccio un piccolo passo avanti e poi torno indietro no? ma questa visione dello sgarro nasce proprio dal fatto che finora vi hanno sempre inculcato che per dimagrire niente carboidrati ore infinite di allenamento pillole, bibitoni dolci no zucchero no cioè vi hanno inculcato tutte queste cose e giustamente una persona dice ah ok per dimagrire io non posso mangiare questi alimenti però più una persona si priva di questi alimenti più poi perde il controllo dopo specialmente nel weekend quando solitamente con le classiche diete il sabato si ha il giorno il pasto libero no? quando si seguono le classiche diete da fame e quant'altro ehm io sono contro questo questo termine proprio perché quando segui un'alimentazione che ti appaga no? perché è anche importante che l'alimentazione debba appagarti non hai bisogno di aspettare un giorno in particolare né tantomeno di arrivare al giorno in cui mangi la pizza che mangeresti la pizza il panino le patatine la torta tutto insieme no? è una visione questa qui del bianco nero che è altamente dannosa sia per la tua salute fisica perché un continuo effetto yo-yo e un continuo prendere perdere prendere perdere peso ha comunque un effetto negativo sul tuo corpo ma soprattutto a livello mentale perché? perché una persona che si trova a vivere ogni santa settimana con il terrore che arrivi il sabato e si perde il controllo innanzitutto non vive bene magari quel momento che condivide con gli amici o con la famiglia non lo vive bene perché arriva che si siede al tavolo e dice la pizza no adesso io so già che se mangio un pezzo di pizza poi dopo ne mangio dieci prendiamo una pizza al taglio va? ok? non una pizza margherita quattro quella tonda e quindi non vive bene neanche il momento ma soprattutto poi i giorni dopo sta male perché? perché pensa ho sgarrato quindi adesso devo punirmi quindi adesso per punirmi salto il pranzo oppure mi devo punire quindi adesso vado a correre faccio tre ore di allenamento perché devo bruciare le calorie in più che ho mangiato cioè si instaurano tutti questi meccanismi psicologici che fanno male cioè sono dannosi perché l'alimentazione e l'allenamento non devono essere visti così non devono essere visti come un modo unicamente per dimagrire cioè alimentazione non è devo dimagrire quindi devo fare sacrifici non devo mangiare questo non devo mangiare quello stessa cosa l'allenamento l'allenamento non è io mi alleno perché devo bruciare calorie no io mi alleno perché voglio raggiungere un fisico macrotonico ed armonico voglio essere in forma e quindi mi alleno oltre per i benefici che apporta al nostro organismo ok ma non deve essere visto come mi alleno perché devo rimediare al danno fatto ecco perché noi di guerriere in forma siamo contro lo sgarro oltre ovviamente ad essere contro pilole bibitoni e tutta questa questa robaccia qui devo fare un sorsettino d'acqua sei grande complimenti grazie Lella grazie Lella ok allora quindi ci sono domande in merito a questo argomento io prendo il bonito e non dimagrisco cos'è il bonito? cos'è il bonito? il bonito non so cosa sia il bonito forse intendevi il bibitone cioè i sostitutivi del pasto io pure ho questa fissazione del cibo se sgarro sì ma la visione dello sgarro è una visione comune alla maggior parte delle donne proprio perché piuttosto di educarti ad avere un'alimentazione corretta piuttosto di educarti ad avere uno stile di vita sano nutrizionisti dietisti coach del benessere chi vuol capire capisca chi non vuol capire non fa niente ho letto il messaggio di Elda e mi sono distratta stavo dicendo è una visione che accomuna la maggior parte delle donne per colpa di chi in teoria dovrebbe darvi un'educazione alimentare nella pratica vi danno la dietina rigida da seguire e finisce lì niente supporto se mi scrivi non ti rispondo e quant'altro il discorso è che il cibo è anche condivisione ok oltre ovviamente al cibo che serve per far funzionare la macchina del nostro corpo perché il nostro corpo è una macchina ok funziona sempre 24 ore su 24 è lì che funziona e quindi serve benzina al nostro corpo per funzionare la benzina proviene dal cibo ok ma il cibo è anche condivisione cioè sedersi a tavola e condividere un piatto di pasta con il proprio compagno con la propria figlia è un gesto comunque che è importante soprattutto quando si ha una vita frenetica e magari non si riesce a trascorrere il tempo con le persone a noi care perché si ha una vita frenetica piena di impegni quindi il cibo diventa anche un momento di condivisione importante con le persone alle quali vogliamo bene ma nel momento in cui una persona che vive con la paura di con la paura di sgarrare con la paura di mangiare non si gode né quello né quello oltre al fatto che questa visione non porta da nessuna parte questa visione di aver paura di mangiare perché? perché fare la fame non fa dimagrire cioè mangiare poco non fa dimagrire di fatti quante donne anche adesso magari che mi stanno ascoltando mangiano poco ma sono sempre l'ago della bilancia è sempre lo stesso non cambia mai nulla proprio perché mangiare poco non fa dimagrire e soprattutto perché si ritrovano che passano da un eccesso all'altro quindi sono abituate che o fanno la fame per dimagrire o mangiano cioè questa è la visione che hanno no? o faccio questo e dimagrisco per le prime settimane poi dopo mi blocco e non dimagrisco più perché sto facendo la fame o l'altro eccesso è mangio di tutto non mi interessa niente della dieta quando poi arriva l'estate ci penso ma queste due visioni estreme non portano da nessuna parte portano solo ad un senso di malessere costante e al non poter mai indossare magari quegli abiti che una volta vi stavano bene che poi adesso non vi stanno più cioè non portano da nessuna parte queste visioni una sera sono uscita con una delle colleghe e una di loro mi ha detto mangerei una pizza ben saporita invece devo mangiare solo la margherita perché sono a dieta ho risposto sei matta goditela serenamente io ho mangiato una bella farcita elda elda tu puoi perché fai parte del metodo Fespa chi non fa parte del metodo Fespa ha paura di mangiare anche una pizza margherita che poi giusto per una pizza margherita a parte che non è uno sgarro ma nessun alimento è uno sgarro non esiste lo sgarro ok ma una pizza margherita è un po' di farina un po' di farina con della passata di pomodoro e della mozzarella cioè non stiamo parlando di un hamburger con 4 hamburger 10 fette di cheddar 3 kg di maionese e chi più ne ha più ne metta cioè stiamo parlando di farina farina e passata di pomodoro e mozzarella le persone sono terrorizzate dalla pizza no se mangi la pizza devi bere il bibitone lo devi prendere 2 volte al giorno anzi no 3 volte al giorno prima di mangiare la pizza devi farti bibitone senza solo bibitone senza niente colazione spuntino e pranzo devi farti bibitone perché sennò ingrassi ma bevitelo tu il bibitone ma bevitelo tu prendi la pillola prima di mangiare la pizza la pillola che ti va a bloccare l'assunzione di carboidrati ma stiamo scherzando per una pizza mi devo prendere il bibitone e poi pure la pillola per bloccare l'assunzione dei carboidrati ma che sono un cestino dove butti le medicine anche se integratori non sono medicine però bah sento sempre parlare di cibo che si dovrebbe mangiare pre e post allenamento è davvero così? si può mangiare qualsiasi macronutriente? allora manuela puoi mangiare quello che vuoi pre workout solitamente meglio prediligere della frutta o insomma una fonte di carboidrati ok? ma piccola perché altrimenti poi ti alleni con lo stomaco strapieno e non riesci ad allenarti bene eh post workout in realtà non si pone il problema ok? soprattutto se poi dopo mangi che magari pranzi ceni oppure fai uno spuntino così non si pone il problema ok? eh io lo so che magari vedi quelle persone che dopo l'allenamento mentre fanno l'ultimo esercizio già mangiano eh le proteine già bevono le proteine perché se no catabolizzano ma no in realtà assolutamente assolutamente no quindi se proprio vuoi prima dell'allenamento puoi mangiare una piccola fonte di zuccheri cioè di frutta o una piccola fonte di carboidrati ma piccola altrimenti poi non riesci ad allenarti e post workout se ceni o pranzi non c'è alcun problema oppure se vuoi fai spuntino come preferisci tranquillamente puoi fare spuntino con uno yogurt greco con quello che vuoi cioè non non per forza ecco le proteine in polvere anche perché Manuela tu lo sai però adesso che le ho nominate lo dico le proteine in polvere è un integratore valido sono un integratore valido da non confondere come sostitutivo del pasto né come farmaco ma servono laddove magari tu con l'alimentazione non riesci a raggiungere l'apporto proteico ma non sono obbligatorie ovviamente allora peso 100 kg non riesco a dimagrire ho una fame compulsiva allora Antonella secondo te da cosa è data questa fame compulsiva è data dal fatto che finora la butto lì ma secondo me indovino no non sono una maga però esperienza questa 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 tua fame compulsiva è data da diverse diete restrittive che hai provato quindi ti sei sottoposta a diete estreme che hanno portato a far nascere dentro di te questa fame compulsiva ma ma che ci fanno questi uomini nelle nostre dirette al femminile è ah giusto siamo sulla pagina allora 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 ok allora Antonella dato che non c'è un botta e risposta perché siamo in diretta e quindi tu non puoi rispondermi in tempo reale anche perché io arrivo dopo diversi secondi e quant'altro guarda faccio una mia analisi ok può essere sbagliata ma sono sicura che sono sicura che non mi sbaglio per via di tutte le donne che ascolto costantemente si è aperta a tutti purtroppo arrivano anche questi eh sì purtroppo arrivano anche questi ma non vi preoccupate perché li facciamo bloccare e bannare dai nostri collaboratori perché noi non vogliamo uomini no vabbè adesso se no qua mi prendete per sessista assolutamente no però guerriere in forma è un gruppo assolutamente al femminile vabbè che qui siamo anche sulla pagina quindi siamo in diretta su gruppo privato e pagina però ci rivolgiamo principalmente ad un pubblico di donne quindi non non sono accettati per adesso allora sì vero perfetto Antonella vedi ho ragione ci ho preso perché sono una maga qui davanti a me ho la palla per vedere il futuro per vedere il passato delle persone quindi indovino sto scherzando ovviamente però eh esperienza nel campo con tante donne che eh puntualmente si ritrovano nella tua stessa situazione c'è chi magari pesa anche più di 100 kg 100 kg 110 115 120 c'è chi ne pesa un po' di meno 90 kg 98 kg però magari è alta eh eh un metro e sessanta quindi capisci che 90 kg su una persona di un metro e sessanta sono un po' tantini vabbè senza comunque dilungarci ehm ecco nel momento in cui eh tu ti sottoponi ad una dieta rigida eh che può essere una dieta chetogenica una dieta con le pillole una dieta con i bibitoni una dieta in cui non mangi carboidrati non mangi dolci non mangi zuccheri non puoi mangiare nulla praticamente è normale che più ti privi più eh proprio una questione di di mente una questione dell'essere umano che è così più ti privi più rinunci alle uscite rinunci ai tuoi cibi preferiti maggiori saranno gli episodi di perdita di controllo proprio perché ti stai privando di quell'alimento che magari ti piace non puoi mangiarlo e quindi ecco che nel momento in cui hai il primo calo di motivazione oppure hai il primo crollo emotivo oppure vivi una giornata stressante e sei abituato a sfogarla nel cibo ecco che tutto insomma quello che hai fatto tutti i sacrifici che hai fatto tutte le volte in cui hai detto di no all'amica hai detto di no al cioccolato hai detto di no alla pizza hai detto di no al dolce poi ti ritrovi che perdi il controllo appunto al primo crollo che può essere un crollo di motivazione un crollo emotivo un crollo ripeto legato magari ad una giornata andata male e sei solita sfogare le giornate andate male all'interno del cibo e quant'altro quindi ecco perché è importante seguire un'alimentazione che sia flessibile sia sostenibile seguire un percorso perché alla fine il dimagrimento è un percorso cioè il dimagrimento non è non è la dieta dal mese X al mese Y non è il bibitone per due mesi non è questo il dimagrimento ma così come anche l'aumento di peso seguono devono seguire un percorso ok? e il percorso non deve essere rigido non deve essere restrittivo deve essere un percorso flessibile sostenibile personalizzato ovviamente che ti consente di arrivare al tuo obiettivo senza dover eliminare i carboidrati senza dover eliminare la pizza il panino la pasta i cibi che più ti piacciono e soprattutto senza obbligarti ore e ore e ore ai fornelli o in cucina o in palestra ok? quindi è per questo che soffri di questi episodi di fame compulsiva che magari sei lì che la sera mentre sei sul divano devi alzarti devi correre in cucina a mangiare oppure mentre sei nel letto stai dormendo ti alzi la notte vai in cucina con l'unico scopo l'unico pensiero quello di mangiare il dolce che magari hai nella dispensa e quant'altro proprio perché se ti privi perché ti dicono di farlo non perché lo fai tu perché ovviamente cioè per forza qualcuno deve averti detto non mangiare la pasta non mangiare i dolci perché sennò ingrassi altrimenti nessuno di sua spontanea volontà segue un regime così rigido no? quindi magari l'hai letto da qualche parte oppure l'hai sentito da qualcuno è solo che questo queste privazioni ti portano appunto a perdere il controllo e quindi come dicevo prima ti ritrovi che fai un passettino avanti e poi però ne fai tre dietro quindi ti ritrovi sempre in qualche modo nella situazione di partenza o in alcuni casi ti ritrovi ad avere più chili rispetto a quelli di partenza mi è capitato con molte donne che mi hanno raccontato queste loro esperienze con questi approcci dietetici diciamo c'è chi mi ha parlato di una dieta a base di un ormone particolare una proteina in realtà quindi una dieta a base di pillole che fungevano da sostitutivo del pasto quindi proprio la pillola mangiare una pillola non la pillola bruciagrassi proprio sedersi a tavola e vedere sul tovaiolo la pillola da dover prendere e buttar giù con l'acqua dalla donna che ha seguito il bibitone e vabbè quelle un po' tutte ci passano per i bibitoni perché purtroppo è pieno è pieno 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 di bibitoni pillole e quant'altro e quindi insomma tantissime donne ci sono passate da quella dall'altra donna invece che magari ha seguito la chetogenica rigida per tre mesi sei mesi e si ritrova in uno stato assurdo perché dopo tre mesi di chetogenica capisci che è un po' difficile capire che puoi mangiare i carboidrati e che non sono i tuoi nemici dalla donna che ha seguito l'alimentazione in cui doveva mangiare gli asparagi a colazione doveva mangiare la pasta a colazione la pasta a pranzo bollita e poi passata sotto l'acqua per togliere il sale per lavare la pasta tutte queste cose strane vabbè lasciamo stare quando in realtà dimagrire è facile cioè si dimagrisce mangiando ma non è così strano vabbè vabbè allora allora all'interno di questa diretta abbiamo parlato un po' di diversi argomenti quindi principalmente abbiamo parlato del perché non dimagrisco sia inteso come proprio domanda quindi non bisogna porsi perché non dimagrisco come domanda per tutta una serie di motivi che abbiamo detto all'inizio quindi se ti sei persa la diretta rivedila dall'inizio non appena sarà finita quindi poi abbiamo detto che bisogna sostituire il perché più la negazione quindi perché non con come posso fare cosa posso fare per dimagrire per essere in forma perché quando una persona si chiede perché non posso dimagrire ci si anche mette dei limiti perché si pensa continuamente al perché non si possa dimagrire e non si trovano delle possibili soluzioni quindi come posso dimagrire cosa posso fare per dimagrire cosa posso fare per essere in forma queste sono le domande che devi porti e soprattutto poi all'interno di questa diretta abbiamo anche parlato del perché nell'effettivo non si dimagrisce del circolo fallimentare che si crea con le diete degli sgarri perché non esistono gli sgarri mangiare sano e tutta un'altra serie di informazioni molto utili che se ti sei persa rivedi la diretta dall'inizio inoltre se ancora non sei una guerriera in forma accedi immediatamente a quello che è il nostro gruppo facebook privato guerriera in forma perché molte dirette si tengono solo e unicamente all'interno del gruppo quindi poi magari trovi il link nei commenti e se vuoi raggiungere la libertà alimentare liberati dei chili di troppo senza effetto yo-yo e senza poi rinunciare ai carboidrati senza dover cucinare 14.000 cucine diverse per ogni componente della famiglia allora puoi contattare uno dei nostri consulenti cliccando sul link che trovi da qualche parte nei commenti cercalo un po' per prenotare la tua consulenza strategica gratuita per le mie guerriere in forma ci vediamo domani sera in diretta alle ore 21 penso che sarà una diretta privata non so se sarà una diretta anche sulla pagina quindi accedi mi raccomando a guerriere in forma e scopri di più sulla libertà alimentare contattando uno dei nostri consulenti ci vediamo domani sera alle ore 21 ciao